Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Eccoci, buongiorno. Spero che abbiate passato tutti una buona domenica. Ecco che cosa sappiamo dello scandalo corruzione al Parlamento europeo. La notizia dell'inchiesta giudiziaria belga, che ha portato agli arresti di sabato, è scoppiata letteralmente come una bomba e il coinvolgimento di tanti italiani, Eva Caili a parte, fa puntare decisamente i riflettori sul nostro paese, come fa la Luzerner Zeitung dalla Svizzera. Il fatto lo conoscete. L'eurodeputata greca Caili, che tra l'altro è vicepresidente, una dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo, poi il suo compagno Francesco Giorgi, l'ex deputato italiano Pierantonio Panzeri, del quale Giorgi fu assistente parlamentare e il capo della Confederazione europea dei sindacati, Luca Visentini, sono accusati di avere ricevuto centinaia di migliaia di euro e doni di alto valore dal Qatar per, diciamo, lucidarne l'immagine in vista dei mondiali. E poi c'è un altro parlamentare belga, Marc Tarabella, ve lo pronuncio alla francese, alla belga, ma anche lui è di origini italiane. Tutti sono riconducibili al gruppo dei socialisti e democratici. Panzeri fu eurodeputato sia del PD sia di articolo 1. E ciò che colpisce, sottolinea la redazione di Lucerna, è che sono tutti praticamente italiani, tranne la Caili, che è greca, ma ha stretti legami personali con l'Italia attraverso il suo partner. Ora si aspettano gli sviluppi e si aspetta di sapere in che cosa consistano e in quanto siano economicamente qualificabili gli omaggi ricevuti. Certo è che della sua alta, altissima posizione, la Caili ha fatto effettivamente diversi commenti positivi sul Qatar, nonostante le critiche generalizzate per la violazione dei diritti umani, cosa che, grosso modo, nonostante il suo ruolo di sindacalista, ha fatto anche Bisentini. E a questo punto non stupisce nemmeno che tre settimane fa il Parlamento europeo abbia votato contro una risoluzione sostenuta dai Verdi e anche dall'italiano Ignazio Corrao che denunciava la situazione dei diritti umani nel Qatar. Altre due navi di soccorso migranti delle ONG sono arrivate tra sabato e ieri sulle coste italiane e la stampa internazionale tiene gli occhi puntati sulla nuova reazione del governo italiano dopo i problemi del mese scorso che hanno rischiato una crisi diplomatica profonda tra Roma e Parigi. Il periodico dalla Spagna riferisce che questa volta non ci sono stati i tirai molla della volta scorsa per lo sbarco, le condizioni del mare e del resto non lo permettevano. 261 migranti sono stati sbarcati a Bari e 248 a Salerno. Si tratta di donne, uomini, bambini che erano stati salvati a largo della costa libica. Molti di loro alla visita medica hanno mostrato segni e cicatrici di percosse e di tortura. Alcuni hanno dichiarato di avere subito abusi sessuali. La maggior parte dei minorenni non era accompagnata da adulti. Siria, Egitto, Camerun e Costa d'Avorio, i paesi di provenienza. Il viaggio nel mare agitato è durato più di 40 ore. Non sono stati lasciati attraccare nella più vicina Sicilia, Leggo, ma mandati in Puglia e Campania per il sovraffollamento delle strutture dell'isola. Dicevo, la reazione del governo italiano. Beh, la risposta è che sostanzialmente nulla è cambiato. Non c'è nessuna apertura da parte nostra, hanno detto. L'accusa agli equipaggi è quella di sempre, di avere approfittato per di più questa volta del mal tempo per forzare la mano, segnalando emergenze a bordo. E il periodico qui commenta però che, nonostante l'accusa alle ONG di incoraggiare per il solo fatto di esserci le partenze, molti di più continuano ad arrivare senza l'aiuto umanitario. Sabato scorso un peschereccio con 400 persone a bordo è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria, portando così a oltre 97.000 il numero dei profughi sbarcati sulle coste italiane in questo 2022, che sta per finire. E poi si parla di noi da ieri anche per la tragedia all'assemblea di condominio nella quale a Roma uno dei partecipanti ha aperto il fuoco, uccidendo e ferendo una mezza dozzina di partecipanti. Ne scrivono in tantissimi, da tutti i paesi del mondo, senza però aggiungere nulla a quello che già tutti noi conosciamo, le condizioni psichiche dell'aggressore, i problemi che esistevano nel condominio, il luogo e la modalità della sparatoria. Anche del Covid di Mattarella trovo notizia un po' in ogni paese. Qui la prendo dal giapponese Kumanichi, che, come del resto tutti, riferisce che l'81enne presidente della Repubblica italiana è risultato positivo al nuovo coronavirus, che ha un po' di febbre senza sintomi e che un paio di giorni era stato, che un paio di giorni prima, era stato alla prima della scala di Milano, dove potrebbe essere stato infettato. Resto a Tokyo, per chiudere, salite con me sul treno più veloce d'Europa, l'italiano Frecciarossa 1000. L'articolo e il titolo di Kate Duffy è pubblicato sull'edizione giapponese di Business Insider ed è una recensione, con qualche luce e qualche ombra in più, del treno che con 16 motori raggiunge la velocità di 400 km all'ora con una velocità media operativa di 360. in assoluto uno dei più veloci del continente. Trenitalia lo ha lanciato anche in Spagna sulla linea Madrid-Barcellona. Le classi sono quattro, come al solito, standard, premium, business ed executive. La cronista, per fare un Torino-Milano in executive, ha speso 11.000 yen, circa 75 euro. Ha impiegato un'ora, anziché due, ed è potuta entrare nella saletta dedicata, la saletta VIP, prima dell'imbarco. Nessuna eleganza, scrive, qualche merendina al distributore automatico, ma almeno sei fuori dalla calca. Entrare però in executive, una volta salita sul treno, è stato un bel colpo d'occhio. Solo 10 poltrone, in pelle color champagne, distanziate di un metro e mezzo, che si possono ruotare di 180 gradi, ovvero in una direzione del treno e anche in quell'altra. I pulsanti sui braccioli controllano l'illuminazione, i poggiapiedi e la reclinabilità, e la sensazione di viaggiare in prima è assicurata. Ci sono porte USB e un wifi dedicato solo a quella carrozza lì, anche se nemmeno lei, la giapponesina, come succede spesso a tutti noi, è riuscita però a connettersi a internet. E poi, per quanto riguarda il pranzo, solito sacchetto di bruschettini, come nel resto del treno, Prosecchino in bottiglietta mignon. E ancora, sempre nella carrozza executive, racconta che c'è una piccola sala riunioni, chiusa da cinque posti, con un appendiabiti a grucce, dove i manager possono sistemare le loro giacche e scendere all'arrivo un po' meno stazionati. Oltre alla giornalista, c'era solo un altro passeggero. Sentite, Buon lunedì a tutti, vi aspetto domani, il giorno di Santa Lucia.